Sono racconti durissimi quelli che le donne condividono con il personale del pronto soccorso a Lanciano, Vasto e Chieti. Botte, insulti, strattonamenti sono comuni a molte di loro che dopo le cure sanitarie vengono affidate all'assistente sociale per la successiva presa in carico da parte della rete antiviolenza. Dallo scorso mese di giugno sono state 43 le vittime di maltrattamenti e violenza che hanno fatto ricorso alle cure mediche per i traumi riportati al volto, alle braccia, all'addome. Trauma cranico, la diagnosi più frequente, ma non mancano occhi tumefatti, attacchi di panico, fratture, un solo caso di violenza sessuale riferito. Sono non solo italiane ma anche straniere, dice al TG Max la direttrice del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, Nicoletta Fini. All'inizio abbiamo cominciato a vedere più le straniere, perché forse per il fatto di essere sole, di non avere grossi legami con la società, eccetera, erano quelle che sono venute per prima a denunciare, sempre con molta paura e con molte difficoltà. Ultimamente stiamo vedendo che invece forse per le campagne di sensibilizzazione, per il fatto che la nostra ASLA ha aperto degli sportelli e abbiamo noi, sia io qui a Lanciano, che a Vasto che a Chieti, abbiamo dei medici responsabili con un incarico che si occupano della violenza di genere. E quindi siamo riusciti un pochino più a sensibilizzare, a lavorare meglio con la ginecologia, con il laboratorio analisi, con gli assistenti sociali, in maniera tale da avere dei dati più concreti, ma anche il sapersi rapportare noi medici con queste difficoltà nelle donne, che non è semplice molte volte né comprendere e né farle aprire completamente nei nostri confronti. C'è sempre questa grossa difficoltà. Non sempre le donne denunciano di aver subito violenza, a volte inventano una scusa per giustificare i lividi e dolori, ma i medici sanno capire. C'è un campanello d'allarme. La paura che si legge negli occhi delle donne e delle persone che subiscono violenza e il fatto che perdono quella sicurezza, perdono quella spontaneità anche nel raccontarti l'accaduto, perché se una persona è caduta accidentalmente per le scale, c'è un modo di rapportarsi con il medico completamente diverso. Mentre una persona che ha paura per quello che ha subito, tende sempre ad avere un atteggiamento schivo, non guardarti negli occhi, cercare di deviare l'argomento, sono delle cose che meglio poi possono dire le altre. Per questo noi stiamo in continuo contatto con, ripeto, gli assistenti sociali, lo psicologo, lo psichiatra, la ginecologo e infine poi il laboratorio analisi.